Ma che chitarra lì, è più grosso di te? Abbiamo tempo per un ultimo pezzo Sì, sì, ma video e audio Dopo quando l'hai fatta me la dai una, eh? Certo, sì, sì, assolutamente Vabbè, non la parte ci io più, eh? Sì, sì, sì Ok, ma start? Sì, via 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 Sì, via